Musica Bella a tutti ragazzi qui è lì ed oggi siamo su Minecraft Island of Junara Nello scorso episodio siamo andati su quel cubo là e abbiamo trovato delle cose abbastanza interessanti tra cui un diamante, due smeralti e molto ferro grazie a quelli abbiamo finito il monumento dalla parte anche del ferro oltre all'oro e ai lapislaxuli e non ci rimane che cercare i diamanti e gli smeraldi quindi io prenderei non la nuovissima spada da 9.75 con Sharpness 3 ma bensì un'arma che sinceramente l'avevo snobbata appena presa cioè dico ma che me ne faccio è invece strapotente questo coso qui con Sharpness 5 Knockback 3 ok allora esaminiamo bene la zona abbiamo qui una bella mappa esaminiamola come sempre noi siamo quel puntino lì verde allora questo l'abbiamo visto questo è il monumento questo l'abbiamo visto se non sbaglio o no? no non l'abbiamo affatto visto questa è quell'isola lassù ultra mega gigante questa è dove abbiamo preso la spada e l'abbiamo perso purtroppo questa dovrebbe essere la sfera qui è dove c'è la torre maledetta e quindi abbiamo capito dov'è ok questo io direi che io non ci voglio andare su quell'isola ma mi tocca mi tocca andarci io devo andare là sopra uno come ci arrivo due mi fa paura quindi non ci vado non ci vado dopo il video di ieri in cui vi ho fatto vedere quanto cavolo ho urlato dalla paura basta basta cose paurose quindi vado su quella casetta là che sembra tanto tranquilla ma sappiamo tutti che non è tranquilla sappiamo tutti che là dentro c'è null'inferno ma peggio c'è peggio dell'inferno ma non è che sotto casa mia c'è qualche diamante eh no eh per niente vabbè grazie grazie per farmi vedere per farmi capire che i diamanti sono la cosa più rara che esistano sulla faccia della terra io ho soltanto uno slab e due di cobblestone ma sono messo bene a ah no scusa 27 29 spariamo i numeri all'8 sono messo bene a per quanto riguarda i materiali ma proprio benissimo ma con questo dovremmo arrivarci spero se non ci arriviamo è veramente lontano ok adesso che giorno possiamo dirigerci in santa pace verso la nuova destinazione che cosa stavo per fare cosa stavo per fare vabbè dirigiamoci dirigiamoci verso la nuova destinazione mangia però ok metti questo qui e con lo shift del signore andiamo lo shift del signore che abita vicino casa mia lui ha uno shift veramente elegante retroilluminato con molte belle perline si molto molto fashion no no non mi puoi dire che non ci arrivo con questi slab no cioè really man ma che cosa ok non laggare adesso ti prego gioco non laggare stai facendo il bravo non laggare no 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 qui ci vorrebbe un bellissimo hopper perché mamma mia come li perdo questi cosi veramente facciamoci un hopper mi è venuta veramente una grandissima fantastica bellissima una bella idea allora mi serve un secchiello un secchiello un secchiello e qui c'è già la lava però un secchiello userò questo tanto l'acqua ce l'abbiamo infinita quindi butta l'acqua qua dentro e dammi 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 un po' di ferro che qua non c'è e che non c'è neanche qua ma veramente? non ho più ferro? andiamo a prendercelo mi servono precisamente due ce li ho due tre me ne mancano tre pezzettini di ferro e siamo eccoli qua beh qua ce n'è abbastanza direi di presi ok uno è andato due è andato tre me ne servivano soltanto tre ok possiamo andare via ok abbiamo i nostri tre pezzettini insieme a questi due pezzettini e a questo facciamo così ci facciamo una cestolina cestolina anzi due cestoline ok e eff 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 questo qui questo qui questo qui e una qua ed eccola lopper benissimo andiamo con il nostro secchio a togliere la lava perché altrimenti facciamo la fine del mandrillo chi ha il mandrillo vabbè mettiamo un blocco qui togliamo questo togliamo anche questo togliamo anche questo e prendiamo la cest qua e lopper perfetto allora cest hopper proviamolo se io droppo questo va a finire non nella cesta rimane qui perché non è possibile no questa cosa ragazzi questo non c'entra assolutamente nulla come rischiamo di cadere eh i fail mi vuoi far fare eh i fail maledetto ma io lo so io lo so eh vabbè facciamo anche senza senza oh ah beh c'è c'è lo slab c'è lo slab e quindi non lo puoi fare togliamo questo mettiamo questo mettiamo qui e qua qui qua qua metti lì no oh oh no 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 il piccone la canna da pesca con la carota ultra mega potente ho perso perché perché sono un vero un vero idiota ok sono un vero idiota il piccone si è salvato no non è vero aspettate qui c'è qui no non c'è l'ho perso l'ho perso l'ho perso mannaggia me la stacca ok questo mettilo lì togli da qui e metti lì questo succede quando cercate di fare qualcosa di figo se invece ve ne state tranquilli tutto questo non vi succederà mai diciamo che può bastare prendiamoci la nostra cobblestone dal no che fortuna assurda l'ho per la salvata no ma che fortuna l'ho per la salvata ho per io ti adoro no ragazzi è stato fant... epico epico questa veramente voglio le vignette ovunque veramente è stata una cosa epica dopo questa cosa epica andiamo a fare una stupidata perché se no non siamo contenti no andiamo finalmente a quella casa ho un altro piccone sì ho un altro piccone di pietra quindi lascia qui lascia qui lascia qui e lascia lì andiamoci a conquistare la nuova isoletta parapongi pongi po polo polo po po mamma mia quanto mi fa paura fa i pondi mi fa proprio paura guardate come sono silverfish non sono silverfish fantastico non ci sono silverfish almeno adesso e qua ci sono tutte torce rompi anche questo ok molte torce ci sono e qui c'è questo ok qua sotto c'è la morte ciao bella gente tutti i miei fan vero tutti ad aspettare me per farmi mega party il primo raduno vero e ovviamente ecco i silver io lo sapevo che c'erano i silverfish cosa vi avevo detto dei silverfish e infatti eccoli qua prendiamo il piccone e cerchiamo ecco no 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 è veramente assurdo guardate quanti sono è assurdo ok rompiamo lo spawner per favore no vai via oh ma ci senti ci senti ti ho detto vai via no no lui non ne vuole sapere lui è akab lui si chiama akab no 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 tutti a correre su eh oh mi colpite pure adesso no il silverfish non deve salire no 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 pure il ragno sentite ciao 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 vai via ciao ok che ne dite se questo dungeon lo facciamo nel prossimo episodio io dico proprio di sì vi ringrazio tantissimo per la visione come sempre vi ricordo di lasciare un like un commento di condividere se non siete ancora iscritti iscrivetevi iscrivetevi alla pagina facebook come in ogni video trovate nella descrizione noi ci rivediamo in un prossimo video ciao 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 ciao